bene carissimi siamo arrivati al nostro appuntamento della catechesi che ha come questo argomento proprio Gesù Cristo Gesù Cristo che è diciamo la nostra gioia è il cuore della nostra fede è il nostro maestro il nostro salvatore il nostro signore è il figlio di Maria è il nostro fratello dobbiamo non solo conoscere Gesù Cristo come se fosse un'informazione dobbiamo capire che lui è vivo è risorto è vivo è il signore del mondo è il signore della storia e diciamo è colui nelle cui mani il padre ha messo tutto anche il nostro destino eterno è il nostro salvatore e la Madonna desidera che tutti noi specialmente voi giovani abbia da conoscerlo e a stipulare con lui un'amicizia così profonda che nessuna tempesta della vita potrebbe rompere questa amicizia e voi sapete che come valente siamo in tempo di tempesta oggi come ha detto la Madonna specialmente in una società che ha rinnegato la fede che ha rinnegato Gesù Cristo e quindi oggi essere suo amico significa andare anche contro corrente ma significa anche salvarci dal marasmo del male e della mezzogna che sta immergendo il mondo noi abbiamo nella catechesi precedente ragazzi abbiamo detto che ci sono due problemi di fondo che riguardano Dio il primo problema è se Dio esista e il secondo problema è chi sia Dio cioè chi sia Dio nel suo mistero che Dio esista lo riconoscono anche oggi almeno il 60% degli uomini intervistati recentemente ammettono l'esistenza di un Dio poi quando vai a vedere che in quale Dio credono vedi che c'è proprio una va bene delle lingue sono pochi quelli che hanno un concetto adeguato di Dio che pure noi con la ragione potremmo arrivare a noi con la ragione possiamo dimostrare che Dio esiste a partire dal mondo a partire anche dei bisogni del cuore umano che ha bisogno di eternità di santità di immortalità e quindi sia con le vie della ragione sia con le vie del cuore si può dire che Dio esiste ma si potrebbe anche capire la grandezza la bellezza di Dio che ho l'onnipotente che misericordioso che il buono che amore però diciamo così sono poche le menti umane e anche le religioni umane che sono arrivate a dirci chi è Dio nel suo mistero è per quello che Dio ha deciso di prendere l'iniziativa e farsi conoscere e l'ha fatto conoscere attraverso la storia sacra attraverso i profeti che noi conosciamo quando andiamo in chiesa la domenica sentiamo l'antico testamento attraverso i profeti Dio si è rivelato ha rivelato come cariatore come signore come misericordioso come il giusto come il santo come colui che si prende cura di noi questa conoscenza di Dio già la troviamo nell'antico testamento ragazzi è una conoscenza preziosa perché ci avvicina molto a Dio però per entrare nel mistero di Dio e conoscere chi è Dio dentro Dio noi non avremmo mai potuto se Dio non avesse inviato suo figlio il suo verbo la sua parola il suo figlio Gesù Cristo quando si parla di Dio ragazzi sappiate che è un mistero che ci sovrasta perché noi siamo infiniti lui è l'infinito quindi dobbiamo parlare di Dio usando i termini umani e noi vediamo che nel Vangelo Dio ha usato i termini familiari per cui ha chiamato il suo verbo la sua parola la chiamata suo figlio che effettivamente è eternamente generato da lui e come vi abbiamo già detto nel momento dell'annunciazione è stata Maria la prima destinataria del mistero di Dio che si è rivelato come padre figlio e spirito santo quindi abbiamo detto abbiamo messo a fuoco questo questo che è un concetto molto importante noi per noi conosciamo Dio attraverso Gesù Cristo è impossibile sapere Dio chi è nel suo mistero intimo se non attraverso Gesù Cristo e la rivelazione che Gesù Cristo ci ha dato quindi al di fuori della fede cristiana benché molti ammettono la conoscenza di Dio e per esempio l'Islam anche molte perfezioni divine l'Islam ha preso molto anche dalla sacra scrittura non dimentichiamolo è venuto 600 anni dopo ma ometto rispetto a Gesù Cristo però è impossibile conoscere Dio al di fuori della rivelazione che ha fatto attraverso Gesù Cristo e cosa ci ha rivelato Gesù Cristo il mistero di Dio dentro Dio che è un mistero di amore eterno di comunione sono un unico Dio in tre persone divine cioè Dio non è eternamente solo non è infinita solitudine ma è un unico Dio che è eterna comunione di amore quindi abbiamo messo a fuoco che noi conosciamo Dio attraverso Gesù Cristo e quindi i due misteri principali della fede sono il mistero della Santissima Trinità e il mistero della divinità di Gesù Cristo che è uomo e Dio e Dio che nel grembo della Vergine Maria però per lo Spirito Santo ha assunto la natura umana cioè un corpo un'anima uniti alla divinità per cui noi crediamo che Gesù Cristo è uomo e Dio come tante volte ci ha ripetuto la Madonna nei suoi messaggi perché siamo in un tempo in cui viene rinnegato Gesù Cristo viene degradato diciamo così declassato a semplice uomo come se fosse un semplice profeta e questa è una menzogna satanica che già operava quando Gesù Cristo predicava già voi sapete Gesù Cristo l'hanno ucciso perché si è detto Dio oggi Satana è riuscito a ingannare gran parte dei cristiani portandoli a dire che Gesù Cristo è un semplice uomo guai a voi se cadete in questo inganno perché se Gesù Cristo fosse un semplice uomo sinceramente non farebbe neanche la pena diciamo non farebbe neanche la pena sacrificarsi per un uomo un uomo con un uomo cosa volete che sia un uomo per quanto sia buono per quanto sia saggio un uomo non può mai salvare se stesso e neppure gli altri adesso ragazzi in questo quarto nostro appuntamento diciamo che noi conosciamo Gesù Cristo in che modo abbiamo detto conosciamo Dio attraverso Gesù Cristo ma Gesù Cristo in che modo lo conosciamo ragazzi per conoscer Gesù Cristo ci sono i Vangeli e questa è una cosa che evidentemente facilita anche la vostra conoscenza perché i Vangeli sono quattro perché hanno quattro autori sono come sapete due apostoli Matteo e Giovanni e poi due discepoli degli apostoli che sono Luca e Marco Marco era l'interprete traduttore di Pietro Marco un nome latino quindi quando Pietro predicava i Romani lui parlava in aramaico e Marco traduceva in latino e invece Luca invece era discepolo di Paolo era lui comunque lui era un greco e quindi traduceva invece per i pagani questa componente dei pagani che erano appunto i greci come sapete la lingua greca era diffusa nell'imperio romano quanto la lingua latina tutti i Vangeli però noi sono arrivati in greco perché era la lingua più diffusa diciamo così soprattutto nell'oriente dell'imperio romano i Vangeli sono molto semplici sono accessibili a tutti non solo come le altre parti della Bibbia l'Antico Testamento che insomma hanno bisogno di qualche introduzione per essere capite hanno bisogno di tante conoscenze storiche benché noi quando le sentiamo questi brani dell'Antico Testamento quando andiamo a messa e sentiamo anche il messaggio dei profeti eccetera capiamo anche quando voi sentite per esempio anche Radio Maria sentite i salmi eccetera li capite al volo nella loro bellezza però c'è sempre bisogno quando leggiamo l'Antico Testamento di un inquadramento storico per capire bene invece per quanto riguarda i Vangeli si capiscono perfettamente qualsiasi di noi può leggerli e può capirli senza bisogno di tanti studi e questo per la verità vale un po' per tutta la Bibbia è davvero che la Madonna la Meggiugorie ci ha detto di tenere la Bibbia in un posto visibile della casa io per esempio ho la Bibbia proprio sul mio comò proprio lì vicino all'entrata di casa una Bibbia grossissima grande praticamente la apro ogni giorno invece a metà la sera prima di andare a letto qualche volta sento che io devo aprirla qualche volta sono io che chiedo alla Madonna dammi una parola che ho bisogno di una tua parola apro la Bibbia leggo un brano qualsiasi a caso e dopo cerco di leggere quel brano fino a che non mi arriva veramente un pensiero che mi nutre e così mi nutro della Bibbia e più un minuto della Bibbia più mi fai infame di Bibbia io la mangerei tutta intera cioè potessi mangiare la Bibbia la mangerei tutta la divorerei tutta come come ci dice il profeta Ezechiere no ragazzi questo per dire che alla fin fine non c'è bisogno di tanta cultura per leggere il Vangelo per leggere la Bibbia anche voi dovreste averla in casa la Bibbia il più bel libro che sia stato scritto è parola di Dio benché poi abbia tanti autori umani in quanto Dio ha ispirato gli autori umani a far sì che sia pure con la loro mentalità con il loro linguaggio ci venisse annunciata la volontà di Dio la verità di Dio in mezzo a tante altre verità di carattere storico che a noi interessano fino a un certo punto però anche essi sono molto preziose comunque allora vi dico ragazzi d'accordo che oggi siamo entrati nel mondo digitale quindi un libro quasi quasi diventa una rarità però se vi dico se volete essere saggi non dico uomini di cultura se volete essere sapienti se volete avere un punto di riferimento fondamentale nella vostra vita se volete mettervi lì a leggere qualcosa che non avete niente da fare e riempire un po' la vostra mente che ha bisogno di luce e di parole sagge il vostro cuore che ha bisogno di qualcosa che vada oltre la cronaca avete la Bibbia io mi sono sempre detto fra me se per caso mi dovessero condannare il gastro io alla fine basta che mi lasciano la Bibbia sono felice così me la posso mangiare tutto un po' per volta vi dico questo perché voi sapete quante volte Papa Francesco ha detto di tenere un Vangelo piccolo Vangelo tenere un tasca e ogni tanto aprirlo leggere qualcosa ma non so se voi avete le tasche abbastanza per mettere un Vangelino molte volte le avete neanche per mettere il portafoglio comunque sia però avere almeno sul comodino aprirlo leggerlo quando si va a letto prima di andare a letto nutrirvi di questa sapienza divina che ci viene da Gesù che è vivo che ci nutre con la sua parola e che fa sentire la sua presenza e che riempie la vostra vita questa è una cosa che vi chiedo di fare perché è come si dice è una fonte di sapienza di luce di forza e di santità che avete a disposizione allora per conoscere Gesù dovete leggere i Vangeli sono quattro ma è come se fossero un solo Vangelo evidentemente sono quattro autori raccontano molti episodi secondo la loro prospettiva poi ognuno ha le sue fonti perché i Vangeli sono la raccolta dalle prediche che facevano gli Apostoli quindi prima hanno una tradizione orale le prediche degli Apostoli che venivano raccolte venivano catalogate mettevano insieme i discorsi di Gesù insieme alle sue parabole insieme quello che era accaduto dell'infanzia poi e questi quattro autori hanno rielaborato i Vangeli per cui già se Gesù Cristo è morto verso i 30 32 33 dopo Cristo già nel 50 15 20 anni dopo ci hanno già i Vangeli completi e nel frattempo in questi vent'anni circolavano le raccolte varie dalle parabole di Gesù dei detti di Gesù e appunti sulla predicazione di Gesù questi autori li hanno raccolti tutti perché vi faccio questo discorso perché guardate che non esiste di nessun uomo diciamo così non solo religioso ma anche storico di nessuno diciamo uomo dell'antichità o dell'antichità greco romana ma anche prima che abbia una testimonianza così diciamo vasta così particolare così estesa così attendibile dal punto di vista teorico come Gesù Cristo cioè i quattro Vangeli ti mettono lì i tre anni della vita di Gesù Cristo come una una panorama meraviglioso meraviglioso e poi anche dettagliato e poi anche coerente dove si vede la grande opera di Dio attraverso Gesù Cristo dal momento dell'incarnazione al momento della sua resurrezione guardate ragazzi che Gesù Cristo è vissuto poco è vissuto solo 33 anni i Vangeli non raccontano tutta la sua vita raccontano i primi anni della sua vita che sono i cosiddetti racconti dell'infanzia ovviamente il testimone principale dei racconti dell'infanzia è proprio la Madonna quindi cioè i racconti dell'infanzia si trovano nel Vangelo di Matteo e nel Vangelo di Luca Matteo ha diciamo così consulto soprattutto le traduzioni che facevano capo a San Giuseppe e Luca ovviamente anche quelle che facevano capo alla Madonna e Luca soprattutto quelli che facevano capo alla Madonna comunque i Vangeli dell'infanzia sono quelli che noi conosciamo molto bene perché li leggiamo dal tempo di Natale vanno dal momento dell'annunciazione quando la Vergine Maria improvvisamente ebbe questo annuncio e questa missione che sarebbe diventata la madre del verbo poi viene raccontata specialmente da Luca tanti particolari la vista dell'Isabetta la santificazione di San Giovanni Battista e poi la nascita di Gesù a Betalemme i pastori mai dimenticare i pastori perché poi sono quelli che hanno tutto viva diciamo questo evento del Natale nella loro nel loro circondario per tanti anni prima che venisse Gesù Cristo e incominciasse a predicare e poi gli eventi tremendi come la venuta dei magi e soprattutto dico tremendi perché proprio collegate ai magi è la storia degli innocenti poi la fuga in Egitto Gesù presentato al Tempio ovviamente prima per essere consacrato a Dio e poi la fuga in Egitto dove la sacra famiglia di tutto dopo sette anni questi sono i Vangeli dell'infanzia dove però non bisogna pensare che sia dei racconti così tanto per raccontare non un significato spirituale teologico cioè già di quel bambino si dice che è il figlio di Dio già gli evangelisti mettono in evidenza come i pastori lo hanno adorato quel bambino come immagino hanno adorato quindi già appare Gesù Cristo in questa dimensione che è chiarissima nel momento dell'annunciazione no con l'appunto dice l'angelo Gabriele Maria lo spirito santo si inderà su di te e colui che concepirai la roba dello spirito santo sarà santo e chiamato figlio di Dio quindi già nei Vangeli dell'infanzia c'è già questa fede in Gesù Cristo figlio di Dio voi pensate Elisabetta quando la Madonna va a visitarla dice com'è che la madre del mio signore cioè chiama la Madonna la madre di Dio madre del mio signore venga a me e poi l'evento del bambino di Elisabetta che subbalza nel grembo perché ha avuto la possibilità di incontrare il salvatore che era stato appena concepito nel grembo di Maria quindi abbiamo nei Vangeli dell'infanzia già questa grande testimonianza questa fede la fede di Maria la fede di Giuseppe la fede di Elisabetta la fede di Zaccaria la fede dei magi la fede dei pastori che credono che quel bambino è Dio in mezzo a noi è il figlio di Dio che è venuto nel mondo c'è già tutta la fede cristiana perché riconosce che Gesù è il figlio di Dio significa riconosce che Dio è santissima Trinità e che Dio si è fatto uomo ed è già il bambino già preannunciato come il salvatore del mondo il salvatore del genere umano anche la venuta dei magi che venivano dalla Persia era un elemento per dimostrare che la salvezza non è solo per il popolo di Israele ma è per tutti quindi cari amici questa è la possiamo dire la bellezza la straordinaria bellezza dei Vangeli dell'infanzia che noi che noi possiamo diciamo soprattutto nel tempo di Natale possiamo meditare e che ci mostrano come protagonista proprio la sacra famiglia Gesù si è fatto uomo ha voluto nascere in una famiglia ed è cresciuto in questa famiglia guardate che poi dopo che Gesù è tornato con Maria Giuseppe da Nazareth dall'Egitto a Nazareth i Vangeli non raccontano più niente della sua vita cioè praticamente Gesù ha vissuto 30 anni cioè da quando era un ragazzo aveva 7 anni quando è tornato dall'Egitto fino a 33 anni è vissuto a Nazareth e di questa sua vita abbiamo solo un elemento che ci dice cosa faceva cioè era figlio del falegname quindi era anzi a Nazareth lo chiamavano il figlio del falegname quindi Gesù sarà stato sicuramente una persona santa una persona diciamo straordinaria ma il tutto era diciamo così avvolto dal mistero tutto era rinchiuso in quella casetta di Nazareth certamente come ci dice il il racconto di Gesù a 12 anni che è l'unico break che abbiamo e da quando Gesù era a Nazareth quando appunto Gesù è andato con Maria Giuseppe al tempio a 12 anni bisognava portare il bambino al tempio cioè ogni bambino ogni ragazzo a 12 anni era ritenuto di età adulta doveva andare al tempio con i genitori e lì abbiamo questo evento straordinario del bambino Gesù del ragazzo dell'adolescente Gesù che si assenta dai genitori e va nel tempio a parlare dell'adempimento delle scritture quindi dimostrando una sapienza straordinaria tant'è vero che i dottori del tempo si meravigliavano di tale sapienza e di tale saggezza è l'unico evento diciamo così della fanciorezza di Gesù che conosciamo ma che si dice ragazzi che Gesù a Nazareth sicuramente faceva il falegname quindi sicuramente anche la Madonna era una donna di casa sicuramente anche San Giuseppe era un carpentiere era forse qualcosa di più che un falegname insomma era un uomo comunque addestrato un uomo che viveva del suo lavoro non c'è nulla di male a pensare che anche Gesù facesse la medesima cosa ma non c'è dubbio che va colto anche il mistero della presenza di Nazareth a Gesù di Gesù perché perché è un mistero di come si dice un mistero che per esempio un grande santo che è stato elevato agli altari ultimamente Charles de Foucault l'aveva conosciuto molto bene Charles de Foucault quando fu come si convertì si recò il pellegrinaggio a Nazareth e lì rimase per tanti anni per condividere gli anni del nascondimento della vita di Gesù la sua umiltà il suo nascondimento la sua presenza silenziosa per cui all'esterno appariva un ragazzo comune come la Madonna appariva una donna comune come San Giuseppe appariva un uomo comune ma all'interno della famiglia di Nazareth che aveva amici era tutt'altra cosa perché c'è una frase del Vangelo che ci dice che Gesù cresceva in sapienza età e grazia e l'evento della sua presenza al tempio in mezzo ai dottori dove i dottori si stupiscono per la sua sapienza la sua saggezza la sua profondità ci sta a indicare e cari amici che la vita della famiglia di Nazareth è una vita molto intensa a livello spirituale che questa vita nella famiglia di Nazareth aveva al centro proprio Gesù come ci dice il Vangelo di Luca quando ci dice che Maria conservava tutte queste cose che riguardavano Gesù nel suo cuore quindi non c'è dubbio che Gesù nella casa di Nazareth abbia incominciato proprio la sua evangelizzazione all'interno della sua famiglia abbia cioè manifestato proprio alla sua madre e a San Giuseppe diciamo il piano divino della redenzione e come data parte se noi leggiamo alcuni frammenti della vita di Maria che ci ha fatto la Madonna attraverso i suoi messaggi con gli ufficiali a Meggiugorie in attesa diciamo che venga pubblicato che vengono pubblicati quei tre quaderni che Visca afferma di avere sulla vita della Madonna perché come sapete c'è stato un periodo in cui la Madonna ha raccontato a tutti i veggenti la sua vita e alcuni di loro anche hanno degli appunti al riguardo però quella che ha avuto una narrazione molto più lunga la Madonna e Visca durante le apparizioni la Madonna raccontava la sua vita Visca dopo l'apparizione annotava in un quaderno e lei ha raccolto tre quaderni che riguardano la vita della Madonna e questi quaderni Visca afferma di averli d'altra parte non si vede perché non dobbiamo credergli anche se poi non li fa mai vedere a nessuno forse li ha visti padre Bubolo da lontano ma Visca ha detto che verranno pubblicati questi tre quaderni riguardo la vita della Madonna quando la Madonna lo dirà però noi già però la Madonna anche nei messaggi ufficiali a Meggiugorie spesso ha raccontato passaggi della sua vita dove si vede che è vero che Gesù era sottomesso a loro per quanto riguarda le cose di questo mondo ma dove si vede che Gesù è il maestro di vita spirituale anche per sua madre la introduce nel mistero della sua missione la introduce nel missione della sua passione della sua sofferenza quello che Gesù rivelerà gli apostoli nel tempo della sua vita e che non credevano quando diceva io sarò preso sarò imprigionato sarò fragellato sarò crucifisso e risorgerò e gli apostoli non credevano però il mistero della sua vita Gesù l'ha già meditato con sua madre con suo padre all'interno della famiglia di Nazareth dove certamente questa famiglia aveva come centro Gesù Cristo la sua sapienza Gesù Cristo cresceva anche come conoscenza umana come sapienza umana cioè la sua sapienza divina trova una formulazione umana ma era lui la fonte diciamo che illuminava e nutriva dalla parola di Dio dei misteri di Dio proprio Maria e Giuseppe Gesù Cristo era il centro della famiglia di Nazareth e i suoi due genitori sapevano che era questo bambino sapevano che era il figlio di Dio credevano che era il figlio di Dio ma nel medesimo tempo su un piano umano sapevano che aveva una responsabilità a suo riguardo come dimostra quando si perse per tre giorni e i suoi genitori agitati lo cercavano quindi questo mistero possiamo dire di Nazareth di questi anni deve essere illuminato a mio parere non con liquidandolo come un tempo in cui Gesù si è imparato a leggere a scrivere imparato a fare il falegname però ero un ragazzo come tutti gli altri no sicuramente all'esterno la famiglia di Nazareth appariva nella sua modestia umiltà frugalità eccetera perché volete voi però insomma scusatemi se mi permetto che non voglio dire niente su san giuseppe ma che la madonna fosse la creatura più bella del mondo e che gesù fosse il bambino e il ragazzo più sublime del mondo credo che diciamo non c'era bisogno c'è una cosa a mio parere che tutti potevano vedere tutti potevano costatare in ogni caso perché siamo di fronte a due espressioni della natura umana quando Gesù unita la sua natura divina poi quella di maria santissima che aveva una bellezza indescrivibile anche quando era a Nazareth dunque non liquidiamo la presenza di tanti anni vicino nella casa dei nazi come se fosse un evento da quattro soldi un evento normale no è un mistero che alcuni santi hanno capito e vi ho citato padre de Foucault ma anche i tanti mistici che hanno raccolto delle rivelazioni straordinarie su questa presenza di Gesù e di Maria e di Giuseppe nella famiglia di Nazareth come luogo di grandi rivelazioni di grande santità che continua a irradiare continua a riedere nel mondo e questo ovviamente già a mio parere già preannunciato nei Vangeli dell'infanzia dove si dice che Gesù cresceva in sapienza età e grazia dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini però la maggior parte e lo spazio dei Vangeli ragazzi è dedicato diciamo così ai tre anni della vita di Gesù pensate in tre anni il mondo è radicalmente cambiato e ancora oggi il mondo è diviso in due schieramenti quelli che li negano Gesù e quelli che lo seguono